Allora, ora analizziamo la novella di Landolfo Rufolo, questa novella si trova nella seconda giornata ed è la quarta. Andiamo a leggere prima la rubrica nella quale Boccaccio ci presenta gli elementi essenziali, ci dà appunto la prima chiave interpretativa. Landolfo Rufolo, impoverito, vive incorsale e da genovesi preso, rompe in mare e sopra una cassetta di gioie carissime piena, scampa e in gulfo ricevuto da una femmina, ricco si trova a casa sua. È chiaro che il tema della novella è quello della virtù contrappossa alla fortuna. Prima di analizzare appunto questi due temi andiamo a vedere le cinque macrosequenze in quale possiamo dividere questa novella. Cinque sono appunto le macrosequenze narrative della novella. La prima verte intorno all'impresa sfortunata di Landolfo Rufolo a Cipro, la seconda i fortunati atti di pirateria che compie Landolfo per riconquistare quello che aveva perso, la terza sequenza a che fare con la tempesta che colpisce Landolfo che stava tornando a casa sua e la cattura da parte dei genovesi. La quarta sequenza fa riferimento al naufragio subito appunto da Landolfo Rufolo e la quinta sequenza con la salvezza e la nuova e maggiore ricchezza che Landolfo Rufolo riuscirà ad avere alla fine di questa novella. Allora andiamo a vedere come Boccaccio ci presenta. Quasi all'inizio della novella ecco le parole che Boccaccio usa per presentare il suo personaggio tra le quali cittadette ne era una chiamata Ravello nella quale come che oggi vabbia di ricchi uomini vennebbe già uno il quale fu ricchissimo chiamato Landolfo Rufolo al quale non bastando la sua ricchezza desiderando di raddoppiarla venne presto che fatto di perdere con tutta quella se stessa. Come vedete Landolfo Rufolo già è ricco di per sé però ha una mentalità mercantile cioè non gli basta la sua ricchezza e vuole appunto raddoppiarla. Attenzione a questo raddoppiare perché lo troveremo proprio nel finale della novella. Vuole raddoppiare la sua ricchezza ma per più volte rischiando di raddoppiarla rischia anche di perdere di perderla e perdere anche se stesso cioè rischia Landolfo Rufolo anche di morire. Vediamo la seconda presentazione un pochettino più in là. Boccaccio dice costuia dunque siccome usanza suone essere dei mercanti. Fatti i suoi avvisi comperò un grandissimo legno e quello tutto di suoi denari caricò di varie mercanzie e andonne con esse in ciclo. Vediamo già alcune parole che poi saranno analizzate nelle slide successive. Innanzitutto la ragione di mercatura, l'uso tipico dei mercanti, i quali fatti avvisi suoi, cioè fatti i loro calcoli, decidono di investire i propri denari in merci. E allora vediamo in che cosa consiste la virtù del mercante. Tre sono le caratteristiche essenziali. intraprendenza, calcolo e mancanza di scopo. Intraprendenza. L'intraprendenza consiste nell'investire del capitale. In che cosa? In merce, in mercanzie, in maniera tale da poter ottenere un profitto. E questo profitto ovviamente a sé stante. Ma in un circolo vizioso il capitale diventa merce, la merce diventa profitto, il capitale deve essere rinvestito. Il profitto deve essere rinvestito un'altra volta in capitale, in capitale che a sua volta deve generare altra merce e quindi altro profitto. In un circolo punto vizioso è praticamente infinito. E vediamo allora l'altra caratteristica della virtù del mercante, il calcolo. Lo vedremo leggendo poi alcuni passaggi. Il mercante deve valutare l'affare, se conviene o non conviene. Deve dominare la realtà circostante per quelle che sono le proprie forze e capacità umane. Quindi deve avere la capacità di vedere prima quali possono essere le possibilità di questo affare e ridurre l'imprevisto e il rischio. Il tutto condito da una mancanza di scopoli. Questo forse è l'aspetto più particolare. Cioè deve usare anche mezzi illeciti, in questo caso la pirateria, nel caso Dolfo Ruffoli. Il denaro diventa unico fine della vita e in particolare il denaro diventa più importante di qualsiasi altra legge morale o valore che una persona può condividere. Andiamo a vedere queste affermazioni leggendo qualche breve passo. E portando egli di questa cosa seco, gravissima noia, non sapendo che farsi e veggendosi di ricchissimo uomo, in breve tempo quasi povero divenuto, pensò o morire o rubando ristorare i danni suoi. A ciò che la onde ricco partito, se era povero, non tornasse. Siamo ancora all'inizio della novella, dopo che appunto Dolfo era arrivato all'isola di Cipro e non aveva fatto tanti affari quanto pensava di farne, perché c'erano altri concorrenti che erano arrivati anche loro nell'isola di Cipro. E ecco che valuta, insomma. Davanti a lui si apre uno spettro pauroso, cioè quello di poter diventare in breve tempo da uomo ricchissimo all'uomo povero. E allora delibera, guardate, pensò, cioè un atto razionale, o morire, oppure messo sullo stesso piano della morte, quindi un calcolo molto molto particolare, rubare. Cioè il rubare non c'è in Dolfo nessuno scrupolo in questo senso, ma devi rubare per ristorare i danni suoi, cioè per rientrare le spese. A ciò che la onde ricco partito, se era povero non tornasse. Si ritorna su questo concetto di ricchezza e potenza, come se appunto questo fosse l'unica ragione di vita. E allora andiamo a dignare, oltre alla virtù, la fortuna. La fortuna nel mondo cristiano era sottoposta alla volontà di Dio. Regolava gli eventi umani secondo un disegno providenziale che era più o meno evidente. In Boccaccio invece la fortuna diventa un elemento varico, diventa un caso, cieco, a cui l'uomo può ovviamente dare corso se la fortuna è favorevole e da cui deve guardarsi se diventa sfortuna. E allora andiamo a vedere i passi dove questa fortuna ricorre. Al qual servigio gli fu molto più la fortuna benivola che alla mercanzia stata non era. Egli, forse infra uno anno, rubò e prese tanti legni di Turchi che egli si trovò non solamente avere racquistato il suo, che in mercanzia aveva perduto, ma di gran lunga quello aveva perduto. Ecco, ritorna in questo passo che ancora si trova nella prima parte della novella, cioè quando lui ha venduto la sua nave a Cipro e si è dato alla pirateria, si vede che insomma la fortuna è stata dalla sua parte. Non c'è nessun ammonimento morale. Lui ha usato la pirateria e rubando tante navi ai Turchi egli riuscì non solo a riacquistare il denaro che aveva investito, ma addirittura a ottenere dei profitti. Appunto ritorna per la seconda volta il termine raddoppiare. Quindi, in questo caso, secondo l'etica mercantile, l'Andolfo è stato un ottimo mercante. Per la qualcosa, gastigato dal primo dolore della perdita, conoscendo che egli aveva assai per non incapparne il secondo, a sé medesimo dimostrò quello che aveva senza voler più dovergli bastare e perciò si dispose di tornare con esso a casa sua. Ecco, dopo un anno di pirateria e i soldi che aveva guadagnato decide di ritornare a casa e serpeggia, comincia a essere presente per la prima volta una sorta di cautela del mercante, per non incappare in un secondo evento sfortunato, pensa che quello che ha guadagnato possa bastare, almeno per ora, e quindi decide di tornare a casa. Non vuole più un guadagnare di più. Ma siccome colui che in piccol tempo fieramente era stato balestrato dalla fortuna due volte, dubitando della terza, pensò convenirli molta cautela avere a voler quelle cose poter conducere a casa sua. Siamo ormai alla fine della novella, è arrivato a Corfusi, è salvato dal naufragio, una ragazza ha colpa a casa sua e l'Andor Furupolo non vuole più tentare la terza volta la fortuna. Lo dice chiaramente, balestrato dalla fortuna due volte, dubitando della terza, decide di avere non solo cautela, ma molta cautela nelle cose che sta per fare. E questa volta, e andiamo a leggere proprio la conclusione della storia, nella parte finale, Boccaccio insomma delinea veramente le caratteristiche di un mercante che ha imparato l'arte di mercatura, ma ha imparato anche qualcos'altro. Quivi, ormai è tornato, è arrivato a Radello. Quivi, parendoli essere sicuro, ringraziando il Dio che condotto ve lo aveva, sciolse il suo sacchetto e con più diligenza cercata ogni cosa che prima fatto non aveva, trovò se avere tante e sì fatte pietre che ha convenevole pregio vendendole e ancor meno. Egli era il doppio più ricco che quando partito sempre. Ormai l'Andor Furupolo è arrivato a Radello. Sta al sicuro, ringrazia Dio dell'impresa che è andata a buon fine e decide naturalmente di condurre una vita più morigerata. Però, come vedete, insomma, investe, lo vedremo anche dopo, nelle pietre che aveva così fortunosamente ottenuto e addirittura si rende conto di essere, e ritorna per la terza volta, il doppio più ricco di quanto partito era. Quindi, ancora una volta, un perfetto mercato, il cui profitto è il doppio di quello che arriva a investire. Ma nella conclusione troviamo ancora degli elementi nuovi. E trovato un modo di spacciare le sue pietre, come vedete, insomma, rimane sempre quest'ottica di voler comunque reinvestire. E trovato un modo di spacciare le sue pietre, infine a Gurfo mandò una buona quantità di denari per merito del servizio ricevuto alla buona femmina che di mare l'aveva tratto. E il similiante fece a Trania coloro che rivestito l'aveano. E il rimanente, senza più voler mercatare, si ritenne e onorevolmente visse il filo alla fine. Concludiamo, appunto, questa storia con alcune considerazioni. Le pietre non rimangono pietre, ma vengono spacciate, quindi vengono vendute per ottenere, appunto, altro profitto. Questo altro profitto viene diviso in tre parti. Una parte viene mandata alla buona femmina che a Gurfo l'aveva preso e quindi salvato dalle acque. Un'altra parte agli amici di Trani che lo hanno rivestito dopo la sua traversata da Gurfo verso l'Italia. Il rimanente, probabilmente la parte più importante, la tiene lui, naturalmente. Però non vuole più, lo vuole a Landolfo più, fare il mercante. Si ritenne, ecco la qualità, l'enorme cautela, si ritenne, non investe più. E così vive fino alla fine dei suoi giorni.